Partito? Sì, partito. Buonasera a tutti. Siamo, diciamo, in un ambiente, in un contesto un po' diverso dal solito. Non è il solito studio, non è il solito video. L'idea è di fare una chiacchierata con voi. Ho raccolto tante domande che ricorrono sui social, che mi iscrivete. Mi sono fatto anche il bigino con... ho fatto sia qualcosa di cartaceo che anche qualcosa di digitale per raccogliere varie cose. Spero, e il mio obiettivo è fare un video non troppo lungo, nel quale stasera parleremo di tante cose. Non approfondirò tantissimo perché vorrei, vorrei più che altro, fare qualche... sollevare qualche punto con voi importante e sperimentiamo questo nuovo... questo nuovo format, questo nuovo metodo. Allora, innanzitutto, perché fare questo video? O questi video, dipende se vi piacerà. Perché penso che in questo momento c'è sì tanto rumore, quindi io fino ad adesso, fino a praticamente settimana scorsa, non ho mai parlato del nuovo coronavirus, perché, come vi avevo anticipato, c'era... c'erano troppe persone che ne parlavano, si era creata una situazione di assoluta confusione, e quindi ho voluto aspettare che ci fossero i dati certi, i dati concreti, e devo dire, purtroppo, questi dati concreti adesso ci sono, e ne parliamo dopo. Però, il concetto è, adesso ci sono i dati, adesso e tutti noi siamo consapevoli e consci del problema, o meglio, tutti dovremmo esserne consapevoli e consci, anche se qualche cosa ci sta sfuggendo. Allora, comincerei a dire che, da un punto di vista di comunicazione, da un punto di vista mediatico, una delle domande che, insomma, che circolano, che mi fate anche spesso è ma esattamente che cosa sta succedendo? Io non parlerò di numeri, perché i numeri ufficiali li lascio agli enti preposti, vi lascio anche al video intervista con la dottoressa Monzani, con l'anestesista, che trovate sul canale, per capire esattamente che cosa sta succedendo. Il punto, secondo me, focale è che, dal punto di vista della comunicazione, sono stati fatti tanti errori. All'inizio è stato diffuso il panico, ci ricordiamo tutti la corsa ai supermercati per fare la spesa, poi ci è stato detto, o è stato fatto, meglio, passare questo messaggio tranquilli, tutti sereni, è un'influenza, non succede niente, i soliti bischeri che sono andati a fare le compere, che si mettono alla mascherina, insomma, le solite persone, quindi state tutti tranquilli, va tutto bene, per poi tornare a dire, guardate che c'è un problema serio. Quindi capisco la difficoltà delle persone a raccapezzarsi, capisco la difficoltà delle persone a seguire i cambiamenti, e vi assicuro che fino a quando non ho visto il problema con i miei occhi, anch'io ero quasi portato a pensare, forse si sta un pochino esagerando, non si sta esagerando. E quindi, senza panico, con tranquillità, con serenità, si rispettano le norme, si rispetta quello che viene detto, però dobbiamo tutti essere consce e consapevoli che stiamo combattendo contro un problema serio. Diciamo che le varie domande, mi sono segnati vari punti, ma una in particolare di questi ultimi due giorni è ricorrente, si può riassumere come perché non c'è ancora stata l'apocalisse in Italia, cioè hanno sostanzialmente l'Italia zona protetta, come ha detto il Premier Conte, Ma perché non sta succedendo niente? Ora, viene da sorridere, ma in realtà non c'è da sorridere. La questione di base è che innanzitutto dobbiamo partire da un concetto, da un presupposto molto importante. Tra quello che si fa e gli effetti che si hanno, e tra, diciamo, il momento in cui i pazienti si contagiano e quando si vedono gli effetti c'è un lag, quindi c'è un tempo, un tempo di lazionale, c'è un tempo di, chiamiamo così, di pausa, ok? C'è qualcosa che succede, sembra che tutto sia come prima e poi, apparentemente e improvvisamente, cambia tutto. Allora, perché non c'è ancora stata l'apocalisse in Italia, oserei dire meno male, ma il concetto è che nelle zone, che prima nelle zone ex rosse, ex gialle, diciamo sostanzialmente Lombardia, alcune province venete e alcune province dell'Emilia-Romagna, la situazione è, come prima, se non forse peggio. Semplicemente perché, dico peggio, perché anche se la situazione si mantenesse ai livelli critici precedenti, una situazione ai livelli critici perpetuata per più tempo, capite bene che è molto problematica da gestire. L'altro punto importante, e che si ricollega a quanto vi ho detto prima, è che i vari effetti del andiamo a farci l'aperitivo, andiamo in montagna a sciare, andiamo sotto i portici tutti insieme a fare la festa, che la scuola è chiusa, tutto bene, purtroppo quei contagi si vedranno solo successivamente, ok? Perché tra il momento del contagio e del contatto, quando il virus passa da persona A a persona B, a quando la persona B sana contrae il virus e questo virus comincia a replicarsi, comincia a far vedere, a dar conto di sé, passano dei giorni in cui il paziente è, uno, asintomatico, e due, l'altro aspetto peculiare di questo virus è che, pur essendo asintomatico, il paziente è contagioso, quindi in quei giorni ha contagiato altre persone. Quindi, purtroppo, l'effetto sia delle misure prese adesso, sia dell'eventuale peggioramento, che si spera sempre non ci sia, però da un punto di vista teorico e logico ci sarà, è che semplicemente ci vuole tempo. Ci vuole tempo sia perché le misure prese siano efficaci, sia perché, diciamo, questo virus mostri a tutti il proprio volto. Ad alcuni l'ha già mostrato, ad altri verosimilmente lo mostrerà. Quindi, questo è per rispondere a tantissime domande di questo tipo, compresa anche l'altra che ricorre sempre, perché è tutto chiuso se va tutto bene? Ci sono zone d'Italia in cui magari c'è, ufficialmente, un paziente, due pazienti contagiati per paese o per grande città, diceva perché devo chiudere tutto se qua è Gino, lui, poverino, è colpa sua, devo farmi chiudere il negozio, che è colpa di Gino. Guarda, è là, è là in fondo, lasciamola, isoliamo lui. E no, perché nel frattempo, povero Gino, magari lui è l'unico noto, ma ce ne sono tanti altri e dobbiamo assolutamente evitare che questi altri vadano e, come vi ho detto prima, quando sono asintomatici, vadano a contagiare altre persone. Ok? Quindi i contagiati devono, che sono asintomatici, quindi noi non sappiamo chi siano, devono essere mantenuti in casa e quindi da cui il mantra che si ripete, che si dice che è state a casa. Ok? Perché magari voi non mostrerete, sarete pauci sintomatici, cioè avrete pochissimi sintomi, magari avrete solo quello che scambiate per la rinite allergica stagionale, quello che scambiate per un piccolissimo raffreddore, però per voi è questo, magari per il vostro vicino no. Quindi, questi sono i punti importanti. Parlando ecco di raffreddore, rinite eccetera, l'altra domanda che ricorre, io sto registrando questo video venerdì 13, mi viene in mente, vabbè, riferimenti cinematografici. Ma a proposito di raffreddore, questa tal, che io di cui devo confessare non conoscevo, Maria Rita Gismondo, ah, e c'è l'articolo, ok, poi dopo, al massimo, se abbiamo tempo, no, non avremo tempo perché sono lunghissimo, non faccio mai tempo a leggerlo, sembra ieri sera abbia detto ancora state tutti tranquilli, è una banale influenza e sembra che il professor Burioni abbia già replicato. Volevo anche leggere con voi, commentare degli articoli, ma penso che il tempo sia tiranno per fare una cosa, una cosa bella rapida, però. In continuazione arrivano campioni, a me sembra una follia, per esempio, questo articolo tratto dal giorno, primaria del sacco, scambiate influenza per pandemia. Ora, Maria Rita Gismondo, in continuazione arrivano campioni, a me sembra una follia, Burioni, il 20% dei casi di reanimazione, niente panico, ma niente bugie. Allora, il concetto che, più volte ho ripetuto nei giorni precedenti, che sentite da tutti, è, non è una banale influenza. Posto che già il concetto di banale influenza è errato. Ma perché è errato? Perché noi siamo abituati, siamo portati a credere, anzi, a chiamare erroneamente, influenza tutto quello, tutti, diciamo, quei virus che ci portano, il famoso naso che cola, un po' di febbre, le artrargie, quindi i dolori articolari, la spossatezza, eccetera. E quindi, quando noi abbiamo questi sintomi, durante l'anno, diciamo, in condizioni normali, diciamo, ah, è un'influenza. Invece, chi ha provato veramente il virus dell'influenza, se ne accorge, cioè, ci si accorge la differenza tra un virus influenzale e tutti quei virus chiamati para-influenzali. Quindi già il concetto di banale influenza è sbagliato nel profondo. Ma qui stiamo affrontando qualcosa di completamente nuovo. Io vi rimando ancora, devo dire che fino adesso, quello che mi è piaciuto di più, poi magari sarebbe carino e interessante confrontarmi con voi su cosa ne pensiate, ma il professor Burioni, vi rimando al loro canale, fatto molto bene, pubblica video veramente importanti, interessanti, si chiama Medical Facts, c'è anche una pagina di Facebook, però canale di YouTube, lì dà tantissime informazioni, tantissimi spunti importanti, anche per chi deve studiare immunologia o l'esame di malattie infettive, troverà tante cose interessanti, ma soprattutto lui aveva già fatto un'infografica molto utile in cui confrontava l'influenza e questo nuovo coronavirus. Ci troviamo ad affrontare innanzitutto un virus che non conosciamo. Banalmente è di meno di dieci giorni fa la notizia, per la quale ci sono anche degli articoli scientifici, hanno dimostrato che questo virus è isolabile nel liquido cerebrospinale. Quindi anche quello non era noto prima. È noto da poco che può dare anche delle congiuntiviti. Quindi il comportamento di questo virus non è ancora totalmente noto. E qui mi ricollego un attimino al discorso che ho fatto prima di confusione nella comunicazione. Io mi rendo conto che, anche se... Ed è un paradosso questo, ma... Anche se noi di fondo cerchiamo sempre di non rivolgerci alla scienza. Ci rivolgiamo sempre a altro, ok? A quello che leggiamo al giornale, cioè... Però alla fine noi crediamo nella scienza. Abbiamo quasi un istinto intrinseco a credere nella scienza. Anche chi dice non ci crede, i terrapiattisti, i novax, che improvvisamente sono spariti. Ma noi crediamo nella scienza. E il fatto che la scienza ci dica non sappiamo esattamente il comportamento di qualche cosa, di fondo ci sconvolge ancora di più. E secondo me siamo talmente spaventati ad ammetterlo che, paradossalmente, se c'è una teoria scientifica provata, straprovata, con, appunto, il fatto che la Terra non sia piatta, qualcuno si può scagliare contro questa teoria con violenza e dire no, la Terra è piatta perché è così, così, cosà. Però, di fondo, ha un appiglio, cioè ha una sicurezza. In questo caso ci siamo trovati davanti a qualcosa per cui la scienza stessa ci sta dicendo guardate che tutto non è ancora chiarito, quindi ci vuole del tempo perché vengano chiariti i singoli aspetti. E questo ci spaventa tantissimo. Motivo per cui, da più parti, probabilmente ci sono degli scomposti inviti alla calma e da altre, invece, degli inviti a essere particolarmente preoccupati. Come vi dicevo prima, no panico, no paura, concretezza, conoscenza, intelligenza. Ci dobbiamo muovere con oculatezza e seguire quello che ci viene detto. Tutto questo per dirvi che il concetto di novità porta con sé tantissime sottossiomi. Il fatto, ad esempio, che sia il nostro sistema immunitario questo virus non lo conosce e non sappiamo come reagisce. O meglio, sappiamo come reagisce in generale il nostro sistema immunitario a un virus ma ci stiamo rendendo conto che le reazioni del nostro corpo contro questo virus come dire non ci permettono di classificarlo come una banale influenza e penso che se basterebbe confrontare e vedere un'attacca di questi pazienti anche pazienti giovani come sono queste tac dei pazienti che sono, ad esempio, in reanimazione. Quindi va bene dire che lo stiamo gestendo perché il lavoro, vi assicuro all'interno degli ospedali per gestire questa condizione è estremo e si dimostra la grandissima professionalità di coloro che di medici infermieri personale sanitario biologi tecnici di laboratorio tutti di veramente tutti non li cito tutti ma veramente tutti si stanno impegnando al massimo però dire far passare ancora il messaggio che è una cosina così per così è sbagliato perché porta poi le persone a il ragionamento di qui sopra perché uno dice è solo una banale influenza però il mio negozio in questo momento la mia piccola attività commerciale è chiusa quindi io sto subendo un danno perché cosa? per qualcosa che non esiste che non c'è e che anzi e torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto addirittura qui nel mio paese non c'è nessuno ammalato quindi perché io dovrei chiudere la mia attività per qualcosa che non esiste quindi secondo me è veramente importante far passare il concetto che è un problema reale è un problema che riguarda tutti se e grazie al cielo non riguarda ancora tutti nel senso pratico del termine cioè non ci sono tutti gli ospedali italiani non sono nelle condizioni di tanti ospedali lombardi è una cosa assolutamente positiva da cui però dobbiamo trarre la lezione che dobbiamo prevenire quello che dobbiamo fare noi adesso è prevenire ok contenere quello che potrebbe succedere purtroppo dove questo problema c'è rimane però possiamo cercare di contenerlo evitare che si propaghi a macchia d'olio vediamo se intanto sta registrando ok siamo a 18 minuti e siamo praticamente terza domanda allora provo diciamo a chiudere così anche se ne avrei veramente tantissime altre sulla situazione europea perché collegato a questo ragionamento c'è il fatto che si dice beh però perché solo noi perché in Germania in Francia in Inghilterra no mi ha mandato una di voi prima un articolo molto interessante sul concetto di immunità di gregge per il quale vi rimando nuovamente al canale di youtube medical facts di Roberto Brioni che dire da un punto non mi esprimo da un punto di vista politico perché l'Europa ha noi aiuti eccetera il concetto mio è che sì bisognerebbe visto che abbiamo dimostrato che il virus non conosce i confini questo concetto è stato ribadito più volte ma a quanto pare se non conosce i confini beh ci limitiamo a dire la frasetta e non andare diciamo allo step successivo prendo ad esempio il calcio cioè hanno aspettato l'inverosimile prima di sospendere le partite di Europa League è stata una cosa non c'entra l'Europa però è un esempio della condizione paradossale i calciatori che giocano in Italia potrebbero andare a giocare in Coppa America e quindi non giocano qua qua fanno parte di squadre in quarantena dove sono isolati però possono prendere l'aereo andare da un'altra parte e giocare da un'altra parte cioè bisogna capire che certe emergenze vanno affrontate tutti insieme e perché in Europa sembra perché in Italia sì e in Europa no mi verrebbe da dire che è solo questione di tempo e mi verrebbe da fare anche un altro ragionamento che se vi interessa magari facciamo insieme un altro video scrivetemelo cioè fatemi capire che vi interessa perché vorrei allora a questo punto documentarmi e portarvi dei dati pratici la mia la mia visione che è più una scelta politica che medica cioè sono stati fatti dei calcoli e si preferisce da un certo punto di vista perdere e sto dicendo una cosa molto cruda ma perdere parte della popolazione cioè dire ok sacrifichiamo una parte della popolazione però non sacrifichiamo la produzione non sacrifichiamo qualcosa di economico e so che quanto sia duro questo però è un ragionamento per il quale i politici hanno facoltà di avere di fare questo tipo di scelte poi in un modo ideale dovrebbero anche risponderne e però secondo me sono anche sono anche diciamo è triste dire queste cose è molto triste per me dire questo però secondo me è stata fatta una scelta di questo tipo cerchiamo di procrastinare valutiamo diciamo quanta che parte di popolazione eventualmente potrebbe essere diciamo danneggiata al problema calcoliamo quanti danni economici avremmo dal chiudere tutto e scegliamo facendo un'analisi di costi benefici che sta da prendere non vorrei chiudere con questo con questa triste considerazione forse no vorrei concludere invece col professor Bruno che è il direttore del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale di Pavia che ha fatto secondo me una come dire mi è piaciuto molto quello che ha detto in una trasmissione se recuperate su instagram le storie ho messo lo straccio alla trasmissione lo trovate su internet il concetto è che adesso i politici devono stare zitti l'unica cosa che dovrebbero dire alle persone è state in casa non è questo il momento delle recriminazioni tu hai tolto tu hai messo è colpa tua è merito mio tutte queste cose qua non è il momento è il momento adesso di essere un attimo lucidi e di dire state a casa quello che stiamo affrontando è reale però se remiamo tutti nella stessa direzione di qua ne possiamo uscire vi ringrazio per l'attenzione